Salve a tutti ragazzi, qui è Theogame84, oggi 5 marzo è uscito Tomb Raider ecco dopo 4 anni che non usciva un titolo di Tomb Raider, Square Enix ha prodotto questo titolo che diciamo è un reboot in quale vestiremo i panni di una Lara Croft ragazzina, ragazza, alle prese con la sua prima avventura il gameplay si ispira come avete visto dai vari trailer alle 3 e i vari video che hanno anche messo su Youtube un po' a danciarti questa è la confessione, ho preso l'edizione normale il retro nata per resistere, questo gioco è vincitore di 40 premi dell'E3 di Los Angeles incluso il prestigioso King of the Shoe 2012 e all'interno della confezione ci dice anche che include 14 giorni di prova di Xbox Live Gold e questo è buono dai combatti per sopravvivere raccogli i prezzi delle risorse, coesissi esperienza e via dicendo questa di svolta ecco accompagna Lara la sua avventura ma ora con il nostro amico e... ok voilà bene allora qui abbiamo un bel malloccone di roba vediamo subito dunque qui abbiamo questo cos'è un specie di librettino di istruzioni classico 2-3 pagine in bianche e nero un tanto per sprecare la carta ok poi questo mi sembra un DLC per le armi credo no oh si si un DLC per le armi città di Hitman ok l'oscurerò bene bene e questo qui sono i 14 giorni di prova per Xbox Live e basta noi abbiamo il classico DVD di gioco e qui è Teogame 84 vi metterò dei gameplay del gioco qualcosa anche sul multiplayer ricordiamo che c'è anche un compatto multiplayer questo è tutto ciao ciao bene ragazzi sono sempre io ci siamo qui sul gameplay e mi sono appena liberato cioè ho liberato Lara praticamente ci avevano legato a testa in giù in un sacco se ho riuscito a liberarmi ecco proprio siamo proprio all'inizio all'inizio ecco la nostra Lara vedete un po' la grafica non è malvagia proseguiamo è in una grotta dove ti trovi? ma che bello dove l'hai vista? ah ecco prendila ok fiaccola i comandi ancora non li so proprio bene ah ecco X per ora sto andando solo avanti con le leve fin qui ci arrivo dargli fuoco un po' un po' sto stretta stretta premi le B per esaminare l'ambiente questo è il sesto senso questo è il sesto senso ci si è già qua vabbè per cazzo vabbè giusto scendo B questo prendiamo fuoco lì si spesi i tre bocchetti boom dovrebbe saltar via la porta fuoco uuuu cazzo cazzo fuoco lì cazzo C***o ho preso un colpo Col c***o Dai che riusciremo vivi Abbi fedela, abbi fedela Trovo una via di uscita, ma dai Indicatori degli obiettivi C***o E' la seconda guerra mondiale Allora Trovo un altro trabocchino C***o Ah forse, ok Do fuoco qui Faccio abbassare Aaaaaah Aaaaaah C***o Aaaaaah Aaaaah Ah no, 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 no Non dovevo far così Beh beh, meno male che ce ne sono degli altri Devo abbassarla Da questa gabbia qua Adesso Poi dopo No Ah, non si dovevo agrappare lì Ok Ok Salta la mine Andiamo a andarmene da qui Andello sbloccato, uno principale Ok Ma che corra Tengo per un altro carino Wow Ancora sto strontzo Ti aiuterò Ti aiuterò Ti aiuterò Ti aiuterò Ti aiuterò Oh cazzo Oh 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 Non ho scherzato il tempo Minchia Via Ok Ma cosa Porca puttana Perché Io Oh Scherzato il momento giusto Bosto Via 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 Va via 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 Va Vale Via l'ora Ah Caraca Eeeh L'estia 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 Wow Via L'ho fatto Signori, ce l'ho fatta Oh, i primi trabocchetti E' uscito Che dirvi Dopo questa entusiasmante I primi 10 minuti di gameplay Vi saluto e vi do Il Benvenuto E ritorno ad altri video di Tomb Raider Ciao a tutti